Ciao a tutti ragazzi, sono ritornato a casa come potete vedere e vi ringrazio per il supporto all'interno dei video che ho pubblicato anche durante il mio percorso, il mio tragitto, la mia trasferta a Torino per Juventus Nantes. È stata una partita deludente per quanto mi riguarda, ho visto che anche voi non siete stati per nulla contenti, nei commenti avete veramente estremizzato questo concetto che condivido al 200% perché il tifoso della Juventus ieri sera si aspettava soltanto una cosa, cioè vincere, ma siamo già prossimi alla nuova conferenza stampa di Allegri, alla nuova partita contro lo Spezia e quindi vi do appuntamento anche nel pomeriggio dove andremo a registrare appunto la conferenza stampa di vigilia. La classica, tradizionale, la quale Allegri ci farà al punto la situazione lato infortunati e cercheremo di capire anche qualcosina per quanto riguarda la formazione di una partita di Serie A che ormai rimane soltanto un mezzo, un tramite per arrivare a giocare giovedì, dato che giochiamo già il 23, la partita di ritorno in Francia a Nantes contro il Nantes appunto. Quindi credo che ci sarà un grosso e massiccio turnover alla Spezia, cosa che probabilmente Allegri voleva evitare vincendo già chiudendo il discorso qualificazione nella partita di giovedì, cosa non avvenuta e quindi bisogna anche un po' interrogarsi. Però credo anche che sia giusto fare delle analisi e quindi all'interno di questa giornata, oltre a conferenza stampa, volevo analizzare con voi un tweet che ho letto proprio su Twitter in questi giorni. E quindi ve lo metto a schermo perché il buon Antonio Corsa ha tweetato questa cosa dicendo che su 31 partite giocate la Juventus ha subito gol 16 volte, vincendone solo due. Subito un gol, Nantes, pareggio, Monza, vittoria, Maccabi, vittoria, Monza, sconfitta, Fiorentina, pareggio, Roma, pareggio, subito due gol, Monza, perso, PSG, perso, Maccabi, perso, Milan, perso, Benfica, perso, Salernitana, pareggiato, anche se mi verrebbe da dire che il pallino potrebbe essere tranquillamente verde, quindi vittoria, subito tre più gol, Atalanta, pareggiato, Napoli, perso, Benfica, perso. Allora, cosa significa? Significa che comunque statisticamente la Juventus non prende tanti gol perché 16 gol in 31 partite è un bottino assolutamente ottimo. non sorprende perché comunque la squadra è basata su un principio difensivo, sappiamo che Allegri dà un occhio di riguardo alla fase di non possesso e al cercare di non subire gol. Allegri ha anche sempre detto che per lui questo è il modo migliore di vincere lo scuetto in Italia e credo che anche qua statisticamente sia abbastanza corretto perché tante volte le squadre che hanno vinto il campionato negli ultimi anni si sono rivelate poi anche la miglior difesa, quindi questa cosa ha funzionato. Ma non significa che funzioni sempre, non significa che questa cosa sia sempre vera, è vera a livello statistico e può essere non vera a livello effettivo. Infatti, anche Allegri stesso l'aveva ricordato, nell'anno di Sarri la Juventus aveva vinto lo scudetto senza avere la miglior difesa, però quello era stato anche un anno particolare con il covid, la pandemia di mezzo, il successo ai stadi chiusi, stagione interrotta, quindi quella potrebbe essere anche una sorta di anomalia. Ma cerchiamo di rimanere concentrati sull'argomento di discussione generale perché ieri ve ne parlavo, anche all'interno delle pagelle, è la stessa cosa che dicevo a Davo mentre eravamo allo stadio, questa squadra è completamente dipendente dal risultato. Quando è 0-0 riesce a fare un certo tipo di partita, quelle volte in cui si decide di fare la partita di un certo tipo, perché ci sono anche delle volte in cui si decide di mantenere un profilo un po' più basso, ma quando si decide di giocare la partita per cercare di vincerla, di chiuderla, e si va sull'1-0 dopo essere stati 0-0, in quel momento lì tu non sei così bravo ad andare ad ammazzarla, spesso e volentieri, che è un po' il principio di cui vi parlavo proprio nelle pagelle, ma poi se per caso vai a subire gol, si distrugge tutto, veramente si distrugge tutto, perché l'avere la casellina 0 nei gol subiti per la Juventus e avere la casellina 1 nei gol subiti per la Juventus fa tutta la differenza del mondo. L'Atalanta è un altro caso strano, possiamo dire anche questo antistatistico, se vogliamo, un po' come è stato il campionato 2019-2020 con il lockdown e gli stadi chiusi, questo perché è la partita successiva ai 15 punti di penalizzazione, e la Juventus fa una partita da 3-3, che non è sicuramente il risultato di riferimento per la Juventus, una prestazione che a me comunque non è dispiaciuta, condita da errori individuali, e quindi vi fa veramente capire che già la Juventus che fa 3 gol e che prende 3 gol è strano, a maggior ragione se la squadra è prettamente orientata sulla concentrazione, la cautela a cercare di non prendere gol. Questa Juve, quando ha vinto le 8 partite di fila, con i suoi limiti, perché ci sono state delle partite brutte e le abbiamo analizzate, ci sono state le partite più belle, mi viene in mente quella con l'Alazio e le abbiamo lodate, sempre senza esaltarci in alcuni momenti o buttarci giù in altri, penso sempre con l'equilibrio giusto all'interno delle analisi, però in quelle 8 partite che hai vinto, hai vinto senza subire, non hai mai preso gol. E ci sono stati anche dei momenti, delle occasioni in cui il gol lo potevi subire, probabilmente subendo gol in quella partita non avresti avuto la forza di ribaltarla. E ce lo stanno dicendo i dati. Possiamo anche togliere appunto la Salernitana all'interno di questa statistica, e infatti Atalanta e Salernitana sono i due casi un po' più spinosi, l'Atalanta perché viene dopo la penalizzazione, la Salernitana perché effettivamente con la partita tu l'avevi vinta, non l'avevi pareggiata. E quindi notiamo che quando hai subito due o tre gol, bene o male hai sempre perso, tranne nei due casi che sono un po' particolari. E poi c'è il Monza in Coppa Italia, dove la Juventus riesce a ribaltare il gol del Monza, e c'è il Maccabi, che è l'unica vittoria europea di questa stagione. Un altro dato preoccupante, sette partite europee disputate alla Juventus, una sola vittoria. Una sola vittoria. Ragazzi una vittoria su sette in Europa è poco, eh? A maggior ragione se pensiamo che abbiamo giocato due volte col Maccabi Haifa e una volta col Nantes. E soltanto una volta se riuscite a vincere. Una volta abbiamo pareggiato e una volta abbiamo perso. Sono dati molto preoccupanti. Molto preoccupanti. Monza e Maccabi sono partite simili proprio per quello. Juventus che va avanti, va in vantaggio, si fa recuperare, poi però ha forza di venirne fuori. Non sempre è successo, non sempre è capitato. E Monza e Maccabi sono anche partite che si intrecciano sia a livello temporale, perché Monza e Maccabi, le due sconfitte, sono state anche abbastanza vicine a livello temporale, ma anche perché sono squadre che hai battuto, proprio all'interno dell'anomalia in cui tu hai preso gol, ma ci hai anche perso in altre condizioni. Col Monza addirittura due volte ci hai perso. Non solo quella sconfitta di Maccabi, ma anche la sconfitta poi dopo, successiva, che può essere battezzata, può essere inserita all'interno del discorso legato anche qui ai punti di penalizzazione. Come sì, come no, rimane una grande verità, e cioè che questa Juventus non sa cosa fare quando prende gol. E tantissime volte abbiamo detto, tantissime volte, io ormai ho perso il conto in questa stagione, prendere gol si può, non succede niente, non è un delitto, invece questa squadra si butta giù. Questa squadra non è abituata a prendere gol, non ad andare in svantaggio, attenzione, non è andare in svantaggio, è a prendere gol. Ieri sera tu hai fatto un primo tempo che non hai mai fatto vedere la palla agli altri. Hai preso un gol perché su una ripartenza in cui tanti giocatori all'interno della stessa stazione sbagliano, fanno la scelta sbagliata, l'intervento in ritardo, la scivolata sul prato, il passaggio che doveva essere magari in una giocata diversa in fase offensiva con Di Maria, il passaggio sbagliato, la fagioli, ci sono tantissimi errori. Prendi gol, è finito tutto. Questo è un insieme di cose, parte probabilmente dal fatto che questa squadra, dopo aver fatto il gol, si abbassa, e quindi magari la partita che cerca di fare è quella di contenimento, è quella di difesa della porta, senza troppo preoccuparsi effettivamente di chiudere la partita. Se succede va benissimo così, se non succede, manualmente non succede, o vuoi perché appunto questa squadra ha puntato tantissimo e forte sulla difesa. Io credo che sia pure un controsenso per quella che è la Juventus di oggi, perché tante volte ci siamo messi qua a dire Rugani, De Sciglio, Alexandro, questo Bonucci. Se penso al reparto difensivo della Juventus, Gatti stesso, che in questo momento non è pronto per essere un titolare della Juventus, sono cinque giocatori che per un motivo o per un altro in questo momento non sono presentabili ad alti livelli o non sono più presentabili, non dovrebbero più essere presentabili, magari ne ho anche lasciati indietro. In generale il pacchetto arretrato della Juventus è un problema. Se penso ai reparti, in porta si è messi molto bene, secondo me. Difesa è il reparto in cui andrà a intervenire maggiormente. A centrocampo c'è della qualità, in questo momento siamo un po' corti per via degli infortuni. Davanti, secondo me, la Juventus ha un tasso tecnico elevatissimo. Maggior ragione adesso che ha la possibilità pure di schierare questo tre dente. Quindi questa squadra non può avere un'impronta prettamente difensiva. Anche questa è una cosa che abbiamo detto tante volte. Non è che se le Juventus precedenti di Allegri, del primo ciclo di Allegri, riuscivano a mantenere il risultato, a sigillare magari quel gol e portarselo alla fine e far sì che quel gol magari potesse diventare vittoria, questa cosa funzionerà anche oggi. Che è secondo me la domanda che ha fatto De Grandis e che Allegri si è infuriato per quella domanda che non era maliziosa. Era una domanda normalissima. Perché è da un anno e mezzo che diciamo questa cosa. Prima leggevo i commenti che mi avete lasciato nei video post-Nant. Un ragazzo mi ha scritto Sì, ma Luca, sono 18 mesi che diciamo queste cose. Io lo so che devi fare video, ma sono 18 mesi che diciamo queste cose. Sono 18 mesi che diciamo queste cose, è vero? Ma torniamo sempre qui. Torniamo sempre all'interno di questi discorsi. E cioè che questa non è una squadra che può fare quelle cose come quando c'era la BBC ad alti livelli e c'era una Juventus con magari profili anche più elevati rispetto a quelli che ci sono oggi a livello tecnico o con una Serie A che aveva magari un livello diverso perché in questo momento siamo tutte livellate allo stesso punto tranne il Napoli che è un po' quello che era la Juventus una volta cioè la squadra che in questo momento va a macellare gli avversari. Magari è la gufo. Prima gli sto registrando la sera di venerdì ho visto che stava vincendo 2-0 contro il Sassuolo. Però questo è un po'. Quindi non è che se una cosa ha funzionato in passato per forza di cose tornerà a funzionare anche in futuro. Anche se all'allenatore è lo stesso, anche se allegri è lo stesso. Perché? Perché la squadra è differente. Perché i giocatori sono differenti. Perché le caratteristiche dei calciatori sono differenti. perché i livelli dei calciatori sono differenti. C'era Bonucci e c'è Bonucci ma Bonucci di oggi non è il Bonucci di ieri non è il Bonucci della BBC. C'era Quadrado e c'è Quadrado Quadrado non è più quel Quadrado lì c'era Alexandro e c'è Alexandro non è più lo stesso giocatore c'era Pogba e c'è Pogba è un'altra cosa. Non importa il nome del giocatore non importa il giocatore importa lo status attuale del calciatore importa lo status attuale della squadra non si vive di ricordi non si può vivere di ricordi che è un po' anche il peccato di Allegri in conferenza anzi in post partita l'altro giorno quando sottolineava che le sue squadre hanno quasi sempre avuto la migliore difesa e il primo o il secondo attacco e questo è vero è un dato di fatto quando Allegri è nato la Juventus la Juventus ha quasi sempre avuto il migliore attacco anche se è allenata da Allegri e non è vero che Allegri gioca per 1-0 non è che Allegri gioca mette in campo la squadra per 1-0 anche questa secondo me è una cavolata è a ragione Allegri a dire che è una cazzata ha ragione dall'altro canto bisogna anche prendere in considerazione l'ultima annata in cui la Juventus ha avuto delle serie difficoltà in fase di finalizzazione infatti ha concluso a metà classifica praticamente per gol segnati in Serie A e questa cosa non va bene e in questo momento dove non è nemmeno nella top 4 delle squadre che segnano più gol è sesta in Serie A per reti segnate e con la rosa della Juventus con il potenziale della Juventus 6 gol sono pochi e questa cosa è spiegata dal fatto che quando andiamo in vantaggio di un gol volenti, nolenti perché lo vuole l'allenatore perché lo vuole i giocatori qualcosa succede per quanto mi riguarda è l'indicazione dell'allenatore a dire stiamo più cauti stiamo più tranquilli stiamo più incontenuti cerchiamo di ragionare prima sul non prendere gol che sul farlo quando va bene e mantieni la porta inviolata vinci le partite quando non va bene succede l'episodio riescono a farti gol e te la pareggiano soltanto in due occasioni sei riuscito a portarla a casa ma è un insieme delle due cose io le vedo due cose completamente concatenate e quindi non ha senso ragionare sul passato una volta funzionava oggi non funziona più perché sono giocatori diversi perché sono invecchiati questi calciatori e perché non si vive di solo ricordi non si vive di 5 scudetti consecutivi non si vive di anni di miglior difesa di anni di miglior attacco o secondo miglior attacco di anni magari di 10 anni fa esperienza al Milan si parla di esperienze odierne perché quello che si è vinto si è vinto e rimane nel palmarès nel museum nell'hall of fame rimane dove volete voi dove volete voi però poi bisogna ragionare sui problemi attuali di questa squadra sui dati attuali di questa squadra i dati parlano chiaro la Juventus se prende gol non vince la Juventus se prende gol non vince perché la Juventus è incapace di chiudere le partite perché quando va in vantaggio rinuncia si rifiuta di andare ad eseguire lo stesso spartito per altri tot minuti magari lo fa per 10 minuti magari lo fa per 15 ed è l'atteggiamento sbagliato perché le partite vanno chiuse perché sennò i punti rimangano anche a livello europeo e in questa stagione si sono già stati eliminati una volta e quindi per evitare di venire eliminati una seconda volta da una squadra con tutto rispetto per il Nantes decisamente inferiore bisogna lavorare su questa statistica che per quanto mi riguarda è preoccupante tanto quanto pensare che ne abbiamo vinto una su sette in Europa e quindi